Grido d'allarme alla provincia, la parte del Bauermund servono subito 10 milioni di euro per arginare la crisi che sta colpendo l'agricoltura d'alta montagna. All'agricoltura di alta montagna servono immediatamente 10 milioni di euro. I costi di produzione in costante aumento, il prezzo del latte che scende e un mercato di prodotti zootecnici sempre più aperto mettono in grande difficoltà parte delle aziende zootecniche d'alta montagna. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il presidente del Bauermund, Georg Mayer. Negli ultimi anni il bilancio provinciale è rimasto stabile, attorno ai 104 milioni ha aggiunto, ma adesso non bastano più. Con i nuovi finanziamenti sarà aumentata l'indennità compensativa destinata all'agricoltura d'alta montagna per le misure di tutela ambientale. Attualmente ogni agricoltore riceve in media 1.500 euro e il suo guadagno annuo è di 9.900 euro con i quali deve finanziare eventuali investimenti e mantenere la famiglia. L'indennità viene calcolata in base ai punti di svantaggio, ossia al grado di difficoltà dei terreni coltivati. Senza un aiuto rischiamo di perdere molte aziende, ha puntualizzato Mayer. Nel 1992 erano 7.500, adesso a produrre latte ne sono rimaste 5.500 con un preoccupante calo del 27%. Il problema principale resta il prezzo del latte. Dal 2001 il ricavato per i produttori è in continua diminuzione. Studi economici fissano il prezzo a 55 centesimi al litro, ma attualmente il prezzo è di 40 centesimi. L'Europa centrale importa il latte dalla Romania a 18 centesimi al litro. Qui in Alto Adige solo le spese di produzione sono pari a 30 centesimi. E quindi è evidente che con queste cifre non siamo concorrenziali, ha concluso Mayer.